L'operazione del fermo dell'Afgano è meno scandalosa delle dimissioni del carcere. Lo ha sottolineato l'avvocato Adriano Pallesca, difensore del 23enne Akim Nasiri, scarcerato per insussistenza di gravi indizi. La circostanza della scarcerazione resta al momento un giallo. Tutti attendevano l'uscita dal carcere, ma in realtà l'uomo è andato via alle 17 a piedi, senza telefono, utilizzando una uscita secondaria, mentre dal carcere avevano comunicato che il 23enne avrebbe lasciato la casa circondariale nel pomeriggio. Un'attesa durata fino alle 21. Un piccolo giallo che ha lasciato a bocca asciutta anche i cronisti pronti a riprendere l'uomo. Akim questa mattina ha incontrato il suo legale e tornerà al Cara, dove è domiciliato. Il 5 maggio scorso la commissione territoriale della prefettura gli ha riconosciuto lo status di protezione sussidiaria, ma la pratica per il permesso di soggiorno è attualmente sospesa, alla luce del procedimento penale nei suoi confronti. In carcere ha detto ai giornalisti Akim «Ho cercato di spiegare che non sono un terrorista, sono venuto per fare cose buone, le cose del terrorismo che sono cattive le ho lasciate nel mio paese». Quanto al fucile immortalato in una foto, quella era un'arma giocattolo. Uno scherzo tra amici, quando Akim era in Inghilterra, a Birmingham, e lavorava in un supermercato. Ha spiegato così il contenuto del materiale fotografico trovato nel suo cellulare.